Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, gemelli, tendenze energetiche generali per la seconda metà di novembre 2023. Abbiamo la carta della luna, amici dei gemelli. Periodo un po' cupo, un po' nostalgico, con qualche dubbio probabilmente. Quando c'è la luna si parla sempre di qualche questione che ritorna a galla dal passato, può essere anche qualche dinamica di comportamento o direttamente una persona. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente segno lunare oppure venere. E per capire come unire questi eroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Queste sono letture generali, possono valere per il lavoro, l'amore, gli affetti, le amicizie, quello che a voi vibra. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Vi dico anche che sono già uscite le letture sui single e sul lavoro, quindi le potete integrare con queste letture. Bene. Allora partiamo da un 5 di coppe, da un 2 di spade. Qui già sento l'energia della luna ragazzi. Abbiamo un re di pentacoli, un 4 di spade, una sacerdotessa, un 5 di spade, me ne manca una, grazie, e un 9 di bastoni. Che interessante, allora l'energia vi dico, qui avete tante carte a testa in giù, quindi è un po' incastratina in effetti. nella terza settimana di novembre. Ho come la sensazione che ci sia proprio qualche tipo di decisione, di dubbio, di questione. Vi sento da, come vi posso dire, se guardaste il mondo da un punto di vista di carenza. Siete più focalizzati su quello che non avete, piuttosto che su quello che avete, o su quello che avevate. Perché qui c'è un 5 di coppe, come se ci fosse una sorta di pentimento o di rammarico per qualche cosa che si è lasciato indietro, per qualche cosa che si aveva e che adesso non si ha più. O per qualche cosa che si era e adesso non si è più. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 5 di coppe, appeso. 7 di pentacoli e 3 di pentacoli. Allora ragazzi, qui ho la sensazione che potrebbe esserci la necessità di perdonare qualcuno, di perdonare voi stessi, di accettare semplicemente una situazione. Quello che sto per dirvi è per un gruppo di persone molto molto piccolo, però per qualcuno si tratta di processare proprio un aborto, che avete già avuto chiaramente, però che a livello emotivo è ancora lì. Non necessariamente deve essere un aborto di un figlio, anche se appunto per un gruppo piccolo sento che si è così. Può essere anche l'aborto di un progetto. Però qui ho come questa sensazione che proprio il divino femminile si è da curare, ok? Avete la luna. in questa fase della lettura ho come la sensazione che ci sia un senso di inadeguatezza da parte vostra, proprio perché c'è stata questa perdita, diciamo. E invece ho l'idea che sia necessario per voi imparare a perdonarvi. Toglietevi certi pensieri dalla testa. Andiamo a vedere dove dispare. perché qualcuno magari si sta autocolpevolizzando, è colpa mia, o cose di questo genere. Però tenete presente che certe volte ci sono quei momenti dove le cose non potevano andare diversamente che così. Quando si pensa, eh se avessi avuto, eh se avessi affatto, sì ma non è andata così. È inutile chiedersi che cosa sarebbe stato in una realtà parallela, perché non c'è. La realtà è questa e punto. e bisogna con la carta dell'appeso semplicemente accettare quello che è. Allora, il due di spade è spiegato giustamente dalla luna che esce un'altra volta, poi abbiamo un carro e un mondo. Allora, per qualcuno, adesso questo era appunto un messaggio per un gruppo piccolo di persone. Qui sento che c'è qualche cosa che ha a che vedere con uno spostamento, un cambio. Può essere proprio un cambio di residenza o un cambio di direzione, magari all'interno della relazione o di una situazione. quello che mi colpisce è che per un due di spade avete tre arcani maggiori. Quindi è un qualche tipo di scelta, parecchio sofferta, quella che state per affrontare, che diciamo vi fa venire a galla delle paure, vi fa credere di non essere in grado. È un po' come se non sapeste bene da che parte andare, però sapete che volete andare. Andiamo a vedere questo re di pentacoli. Allora abbiamo un 10 di spade, un 4 di bastoni e la regina di pentacoli, re e regina di pentacoli. Allora questa situazione sicuramente pesa. Diciamo che la luna rappresenta la situazione di pesantezza, questo divino femminile da curare, questo bambino interiore, ragazzi. Fate dei lavori, anche solo delle meditazioni sul bambino interiore o sull'utero. L'utero, anche se non avete avuto una perdita di un figlio, l'utero è quella parte che energeticamente rappresenta la creazione, la creatività. Quindi potrebbe essere utile per molti di voi risanare. E per gli maschi, per gli uomini, si tratta di fare un lavoro, chiaramente non sull'utero, ma sul secondo chakra che è lì, è quella roba lì comunque. Magari per voi non è l'utero, però chiamiamolo secondo chakra, ok? Allora, abbiamo anche questo 4 di spade. Ragazzi, qui è come se ci fosse un cambio da fare, ma qualcuno non vuole farlo, si sta attaccando al passato. 3 di spade. C'è ancora questo dolore. C'è ancora questo dolore, sì. Può anche essere che a causa di questa perdita progetto emotiva, quello che è, può anche essere che la perdita sia dovuta un'interruzione con il Redis di Pentacoli, oppure che la perdita in sé abbia creato l'interruzione con un'interruzione. Ed è come se voi aveste voglia di ricreare quel tipo di equilibrio che adesso non c'è più. C'è qualche fatto qui da perdonare, qualche cosa che è successa, che ha rotto un po' gli equilibri, che vi farà venire fuori delle paure, che vi farà venire fuori la voglia di andare via, la voglia di spostarvi dalla situazione o da un posto, perché qui può anche esserci un riferimento a un trasloco. E sento come se si volesse ricreare un certo tipo di stabilità, ma non si riesce, perché? Perché c'è ancora da purgare del dolore. Vedete, il 4 di spade è una carta che parla di guarigione, ed è al contrario. Non si sta effettuando un lavoro di guarigione, si sta cercando, diciamo, di rimettere insieme dei cocci, o come questa sensazione, o se non sono cocci perché non è una rottura tra le due persone, magari è solo il progetto che non è andato bene, non è la relazione tra le persone che non va bene, capito? Però comunque c'è ancora da lavorare sul sanare, sul mettere a posto, sul ricalibrare, sul riprendere in mano il proprio potere personale. Per qualcuno si tratta di antivirus. Ve lo dico così perché mi è arrivato così? Cioè ti può rinforzare i sistemi di protezione online. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 9 di spade. Sì, ma è quello, è 6 di spade. Lasciate stare i pensieri che riguardano questa zona della lettura perché vi creano solo altre paure, insicurezze, preoccupazioni. Per qualcuno si tratta proprio di ansia. Ci vuole anche il suo tempo per la guarigione. Qualsiasi tipo di perdita si sia avuto. Ci sono delle perdite, ragazzi, che non guariscono. Cioè nel senso, non potete far finta di non aver perso quella persona o di non sentire quel vuoto, ma semplicemente si inizia a ricreare un nuovo equilibrio senza quella persona, senza quel progetto. E' come se avessi bisogno di riprendervi in mano la vita. Sento anche un po' di triccia, un po'. Sento parecchia tristezza, sinceramente, nella fase finale di novembre. Perlomeno nella... No, ma sì, ma anche qui avete tante spade. E qui letteralmente vi dice che non vi allontanate da questi pensieri rivolti al passato. E' come se stesse cercando di vederci chiaro. E ho forte, forte, in diverse carte, questo riferimento alla zona uterina. Se per caso state cercando una gravidanza e non riuscite, magari riuscite anche a rimanere incinta, ma non riuscite a portare avanti la gravidanza, fate dei lavori anche a livello energetico. Quindi, secondo chakra. Costellazioni familiari. Vi ho detto, di solito lo dico, la sacerdotessa è con lei che cura il divino femminile. Quindi tutto quello che è collegato con la canalizzazione, con madre terra. Quindi cura attraverso le erbe, cura attraverso i cristalli. Cura come se fosse una madre. Quindi anche attraverso le mani. Sono i pranoterapeuti, gli operatori di reiki, gli agopuntori, coloro che fanno shatsu, i massaggi terapeutici. Vi dico, fatevi aiutare, cercate una guida. Può essere utile per fare un po' di ordine in tutti questi pensieri, perché c'è 6 di spade. 6 di spade è una carta che parla di pensieri e credenze limitanti inerenti al passato. Siccome qua vi avevo detto che è come se non vi sentiste all'altezza, c'è un po' da scacciare questo tipo di pensiero. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Papa e 9 di pentacoli. Wow! Ragazzi, qualche tipo di riconoscimento, qualche tipo di sicurezza. Anche qui il Papa, avete Papa e Papaessa, cercate una guida. Cercate una guida che vi renda indipendenti, che vi faccia lavorare sul vostro amor proprio, che vi faccia vedere la luce che avete dentro. Le discipline olistiche, le discipline naturali, lavorano? Sulla luce della persona, cioè arriva una persona che ha un problema, non lo so, ad una gamba, ipotesi. L'operatore olistico che cosa fa? Praticamente focalizziamo come se la gamba fosse la zona d'ombra, perché è quella che fa male, quella che provoca dolore, e tutto il resto del corpo fosse in luce, ok? Che cosa facciamo noi operatori olistici? Accresciamo la zona di luce, in modo che mettendo sempre più luce, smuovendo sempre di più l'energia, tipo con Reiki si immette luce pulita, automaticamente è come quando riempite un bicchiere di acqua dove ci sono delle gocce d'olio. Più acqua mettete e l'olio ad un certo punto tende a uscire. E lì è la stessa cosa. È un po' come per i vasi comunicanti. Più luce pulita metto, più, diciamo, l'ombra esce. E qui è lavorare sulla vostra luce, su tutto quello che è il vostro potenziale. Schiarire tutte le ombre che voi avete. Il 9 di Pentacoli è una carta di indipendenza, autonomia. Vi dico, per qualcuno fa riferimento anche a un contratto. Può essere, se fosse per esempio una situazione lavorativa, può essere l'apertura della partita IVA, un contratto con qualche tipo di collaboratore. Se qui, per esempio, c'è questo progetto, così com'era, non funzionava, e bisognava un attimino limare delle cose, vi dico che togliendo e tagliando, cercando di vedere le cose nel lungo periodo, qua si raggiunge un certo tipo di risultato. Mi viene di nuovo, perché anche qui avete il 9 di bastoni al contrario, occupatevi della vostra proiezione e protezione, scusate. La protezione è sia energetica, quindi con un quarzo magari, con un cristallo, con i simboli di geometria sacra, quello che più vi piace. Può essere fisica, quindi proprio magari in ufficio, magari mettere delle barriere fisiche tra voi e gli altri, o tra voi e il collega che non sopportate. Sono anche barriere mentali. Qua con il 9 di bastoni intende più le barriere fisiche, quindi proteggersi proprio con qualche cosa di fisico, ma io lo sento anche collegato, andiamo a vederlo, con le barriere mentali. Quindi proteggete, non vi fate, come vi posso dire, abbindolare. Wow! Re di coppe, due di coppe. Ragazzi, qui si può parlare veramente di un riequilibrio in totale. Allora, se per caso voi aveste avuto questo lutto, questa perdita, diciamo che facendo questo lavoro di lasciarsi indietro, di elaborazione del trauma, mi viene da dire, poi qui decisamente si cambia loop, si cambia energia, si va verso un qualche cosa di maturo, si va verso un compromesso, un'unione. Per qualcuno è anche un nuovo accordo, un nuovo fidanzamento, l'incontro di una nuova persona. Non lo sento per molti che sia nuova. È più come se fosse un trauma che rinforza la coppia. Un trauma, un qualche tipo di questione anche lavorativa che vi dà la possibilità di rinforzare i punti deboli del progetto per poi riuscire ad arrivare a questo contratto, all'autonomia, all'abbondanza, alla prosperità, a nuovi accordi, a una maturità completa. Periodo impegnativo la terza settimana di novembre, ragazzi, ma vi dico che vi servirà. Cioè tutto questo lavoro è un lavoro di purga, proprio per togliere quello che non vi serve per andare verso queste bellissime carte, devo dire. Serve sempre fare un lavoro di introspezione, di autoanalisi, ma soprattutto quello che sento che dovete perdonare qualcosa o qualcuno. Fatemelo sapere nei commenti. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Questi sono gli oracoli dei rituali giornalieri. Sono come dei mantra da ripetervi durante la giornata per mantenere un'attitudine e un atteggiamento positivo. Allora, guardate, abbiamo luna piena. Bellissima, perché anche qui avete la luna. E qui vi dice che date il benvenuto alla chiarezza e alla guida della luna piena. Ora, non so in che fase lunare siamo in questo momento, però è come se vi dicessero che nel momento di luna piena, e anche qui c'è la luna, eh, è come se, non lo so quando sarà la luna piena, però qui la sensazione è che tra la terza e la quarta settimana di novembre ci sarà questa sorta di chiarezza mentale. Vi dico, potrebbe molto essere grazie a una guida, a una lettura di tarocchi, a una persona con la quale parlerete, insomma, a un processo di pulizia che voi farete, o semplicemente anche grazie al vostro intuito, però state tranquilli. Diciamo, cercate più che tutto di fare questo lavoro di introspezione verso la terza settimana di novembre, perché poi verso la quarta ci sarà un movimento decisamente migliore. Amici dei Gemendi, questo è quello che ho per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti, che io li leggo sempre, a me piace sempre leggerli. Se avete piacere potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Se avete problemi a trovare il tasto abbonati, può dipendere da un modello del telefono, piuttosto che dagli aggiornamenti o dalle impostazioni. Allora, in quel caso lì potete o entrare in un video e vedere se l'arrive lo dà, e diversamente se neanche lì vedete il tasto abbonati, vi consiglio di cambiare telefono o di andare direttamente dal computer, perché dal computer è più facile che si veda, la schermata è più grande. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!